Io sono Bruno ed eccoci il tornato di questo bellissimo video Sto a Salerno Con me c'è Simone Luigi Ce lo pubblicherò su Youtube Perché questa cosa E' molto bella Perché adesso ci dico Luigi Luigi saluta gli iscritti Tanto non lo conoscete quindi Grazie vostra No Vabbè adesso c'è un pochino di vergogna Perché questa è la prima volta che Mi vado a fare la foto con Luigi Siete questo brutello Tutti da l'unicità C'è un altro Youtube Che sono in pochissimi E' Luigi Luigi Saluta gli iscritti Vabbè ce l'ho detto L'avete sentito Perché Luigi E' un Youtuber Sì E' un Youtuber Sto con lui Facendo i video Fatto pure vedere Eccolo là Con il cappuccio nero Dato un grande E' un bacione A tutti voi Iscritti Tanto sono cinque Non me ne porto una minchia Ma basta che sto su Youtube E faccio i video Beh ragazzi C'è sto a Serena Ve l'ho detto già prima E guardate che burdello laggiù C'è voi lo vedete Stanno per cantare Via Sti capelli di merda Che cazzo E rimane più vicino Vabbè Vedete Ma che l'ho umbriaco Una cosa Umbriaco O te ne O te ne O te ne Un cazzo Tu Va Ste Ma la troppa Che sto qua Che bello Luigi Del luce Vabbè Se vi Vabbè Andiamo qui giù Andiamo qui giù Che non mi hanno sentito Beh ragazzi Se vi è piaciuto Lasciate un commento E mi piace No Vabbè Non so Che finito Due minuti Dai Due minuti Solo Guarda gente Guardate Guardate bravo Ciao Ciao Questi coglioni Mamma mia Non sanno che stanno Stanno per andare Su Youtube Non sanno che stanno Per andare su Youtube Stanno andando pure loro Su Youtube Mamma mia Non capiscono che stanno Per andare su Youtube Tutta la gente Tutta la gente Non so che sta per andare Su Youtube Non so che Non so che la gente Non so che la gente Sta andando su Youtube Ma è coglione Ma è coglione Ma è coglione Ma è coglione sta gente Per quei bambini Mamma mia Quanto gente sta andando su Youtube Beh ragazzi Se il video vi è piaciuto Lascia un commento E mi piace Anche la faccia di Facebook Ogni video Troverai In descrizione Se non siete ancora iscritti Ci vediamo Al prossimo Bene ragazzi Grazie a tutti